Il provvedimento prevede anche un'autocertificazione veritiera per tutti quei cittadini. Per rilassare il potere del governo federale in questo effetto oggi, sto dicendo una emergenza nazionale. La nostra frazione, la nostra draggia è la nostra liberatura per l'autocertifazione veritina dei nostri amici. La nostra frazione è di essere un'autocertificazione a giralini. L'autocertifazione veritica, la nostra frazione, la nostra frazione, i nostri amici, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.